Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti i topini e topini bentornati in un nuovo video! Oggi sono qua con... Oggi sono qua con mio papà e la Cristiana Allora, oggi andiamo da Antonello, è il mio migliore amico Andiamo fino da Antonello, sto facendo questo video su Youtube perché adoro registrare ogni giorno, infatti prendo il telefono e dico, registro, registro, faccio un nuovo video poi lo carico su Youtube, eccetera Dopo, quando ho finito di registrare, siamo ancora dei miei amici Guardate... Ma la cosa più tenera è questo boccetto Guardate... Si chiama Batuffolo È quasi il mio gattino Ciao Batuffolo, è bellissimo Bucicchi Per andare... Per andare... Diciamo... Per andare... Ovviamente via, ovviamente perché io devo andare via Antonello Per l'altro Io sono questa, con le mie trecce Nananinana Allora, vi stavo dicendo che 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 vado da Antonello, vado via Guardate ragazzi Vedete, alle mie spalle Lì nel cielo Non è tanto bello il cielo Non è tanto bello Allora, ad Antonello Facciamo un video Dove giochiamo insieme Mi raccomando Prima di iniziare Tutta questa giornata Iscrivetevi al canale E attivate qui sopra la campanella Per restare sempre aggiornati Guarda quando In ogni video Esce Il mio esce di pomeriggio Alle due Alle tre E alle quattro Allora ragazzi Qui Qui Poi qua c'è anche una casa abbandonata Con i tuoi Con tutte le parti Ma qui Max Ma qui ragazzi È morto un cane L'abbiamo sotterrato È successo Già Era lì Nella cuccia Nella cuccia Era lì Morto E l'abbiamo sotterrato Proprio qua dove c'è la bocca Era completamente morto Allora Adesso andiamo via E Vieni Nano Nano È rimasto anche Nano amore E allora Mio papà piangeva tanto Tanto E allora Va Allora ragazzi La cosa più bella Che Qui c'è Nano 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 Allora ragazzi Prima di iniziare Beh sì Che ve l'ho detto prima Adesso dobbiamo aspettare Che Partiamo Ok Ho finito tutti i compiti C'è C'è L'autunno Che dorme Me l'ho svegliato Ragazzi Adoro i gatti Però sono anche allergica Perché Se Lo tengo In mano Per tante ore Mi vengono le boccine Come una pistola Sto aspettando Sto aspettando Allora Sto aspettando Allora Sto andando Dal pronto soccorso Perché Vi si sono adotte le acque Scherzetto E' molto triste E' molto triste Perché Mi è mancato Il mio Bikes Mi è morto Poverino Mi hanno Avelenato Qui c'è anche Il fuoco Che devo buttare La legna Questa qui Là E poi Suona Tut 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 Basta Ecco A posto Basta Allora Adesso Credo Andiamo via Adesso Adesso Vado a fare Una croccia Sì Adesso Fado Celestiano Dopo Pocano Tento Guarda che Mi carica E' come Dicela Eh Ma Sì Ma Come C'è Un Cagli Una Sulla Sulla Troppo No Ok A dopo